Un altro incidente stamattina intorno alle 12.30 in via Roma all'altezza del distributore esso ha coinvolto una bici e un'automobile. Il ciclista 46enne è stato travolto dalla scenic guidata da un 37enne che ha dichiarato di non averlo visto in quanto impallato nella visuale da un camion che si era fermato proprio per consentire alla Renault di svoltare creando un barco nel traffico. L'impatto è stato violentissimo e il ciclista ha sfondato il parabrezza dell'auto. Sul posto subito intervenuti gli agenti della polizia municipale e il personale del 118 che hanno trasportato l'uomo, un pasticcere fanese, in ospedale in codice giallo e sottoposto ad accertamenti. Da una prima analisi il ciclista sembra aver riportato una contusione al torace con forti dolori alla schiena.